Il impegno preso, 17 e 16 scoccate in questo momento, quindi chiedo scusa per il minuto di ritardo sul quarto d'ora accademico. Un brevissimo perché siamo qui da parte mia e partiamo ovviamente dal saluto alle persone che sono al tavolo, ci penserà a Elisa Calessi, a voi che siete qui fisicamente, a coloro che ci seguono attraverso la web tv della Camera in streaming. Consentitemi un ringraziamento alle persone che hanno lavorato con me per organizzare questo pomeriggio, che sono Marianna Emanuela Milano e Eugenio e Roberto qua a Roma. Tutto questo nasce perché vedo su Twitter un paio di mesi fa che per me in modo del tutto così, in atteso Mario Di Nolfi scrive questo libro, Voglio la mamma. La premessa è che, e lo dico sperando di non turbare la piccola Clara, che io non sono un amico di Mario Di Nolfi. Noi ci siamo visti una volta in televisione alla 7, all'indomani della statuetta lanciata in faccia a Berlusconi per discutere di come la violenza fosse enfatizzata nei social network e ovviamente ci siamo visti difendendo due posizioni opposte. Non tanto perché io fossi allora deputato del PDL, adesso di Forza Italia, e lui un esponente del PD, quanto proprio perché la pensavo diversamente su come stare in internet. Quando è stato parlamentare nella parte finale della scorsa legislatura, credo che forse ci siamo salutati mezza volta. Questo lo dico per dire come veramente questo incontro nasce non da un rapporto personale, che io spero in realtà cominci e sia nato in questi due mesi e possa proseguire. Nasce dalla curiosità da parte mia di scoprire questo Di Nolfi, per me appunto inedito e inatteso. E inedito e inatteso perché andava su temi che sono sempre temi caldissimi e assolutamente divisivi, da una posizione, come dice lui, di sinistra. Lui nel libro insottolinea più volte che si sente un uomo di sinistra, e quindi proprio in virtù di questa sua appartenenza dice che bisogna stare dalla parte dei più deboli, perché secondo lui sinistra è stare dalla parte dei più deboli. E allora da questo punto di vista il fatto che su questi temi, sul tema della maternità, sul tema del fine vita, sui temi appunto del nascere e del morire, la sinistra abbia una posizione in realtà a favore dei più forti, è una cosa che, lo dico tra virgolette, sperando di interpretarlo al meglio, quanto poi lui dirà se non è d'accordo, perché non va mai per me a dire quando non è d'accordo, lo scandalizza. Allora da questo punto qui la reazione, che consiste in una serie di posizioni politiche che poi lui racconterà di sé, è appunto in questo piccolo ma direi pesante libro. Io mi fermo qua. Quindi è nata così, non ci siamo visti, dicevo non siamo amici, non ci siamo visti per organizzare questo incontro, Mario ha rifiutato tassativamente di incontrarmi, io organizzo in questa sala, che è una delle sale più belle della Camera, lo dico perché è qui la prima volta tra noi, una volta al mese tendenzialmente un incontro di questo tipo, parlando sostanzialmente quasi sempre di innovazione di tecnologia e di politica dell'innovazione, ma Mario e con tutti mi trovo per organizzare gli incontri, così che si possa fare un lavoro insieme. Mario ha detto, no, io proprio, tra le righe dei tweet, il messaggio diretto, quindi che vediamo solo io e lui, dice, no, io non ti voglio incontrare, non voglio perdere tempo con un deputato di Forza Italia, questo l'è sottointeso, mi ha voluto mettere alla prova per vedere se facevo sul serio, sostanzialmente, questo è il dato di fatto vero, e alla fine siamo qua, siamo qua, siamo qua appunto in questa circostanza, io uscendo dal mio ufficio alla Camera, a tre minuti a piedi ho visto che era pieno di telecamere, per un istante mi ero illuso che fossero lì per noi, avessero semplicemente sbagliato location, viceversa, mi è stato detto che c'era Matteo Renzi nel Palazzo di Fronte. Allora, ed è un peccato, non che ci fosse Renzi nel Palazzo di Fronte evidentemente, è un peccato che appunto su questi temi non ci sia un'attenzione che porta a una riflessione nel merito e pacata per quanto è possibile essere pacati su queste cose, però ci ho detto, noi siamo qua, lanciamo questo piccolo sasso, grande sasso nello stagno, e io mi fermo qui, veramente ancora ringraziandovi tutti quanti, ringraziando Mario per avermi voluto finalmente incontrare oggi dal vivo e auspicando che effettivamente che sia un pomeriggio che valga la pena e che poi possa essere il seme per continuare un discorso sereno ma rigoroso che sta sui fatti, come il libro sta sui fatti, su questi temi. Molte grazie, Elisa Canessi, padrona di casa. Ecco, io intanto do il benvenuto a Eugenia Roccella, deputato del Nuovo Centrodestra, e a Stefano Pedica, ex parlamentare dell'Italia dei Valori e oggi nel Partito Democratico, e ovviamente all'autore Mario Di Nolfi e Antonio Palmeri di Forza Italia. Io darò molto brevemente la parola a questi ospiti in modo tale che poi ci sia spazio anche per le domande. voglio solo dire due cose su questo libro. Intanto una cosa che non riguarda il libro, o meglio lo riguarda tangenzialmente, e però mi sembra molto importante, cioè quello che è nato attorno a questo libro. Ecco, dovete sapere per chi non è amico di Mario che lui prima di pubblicarlo lo ha messo gratuitamente su Facebook, infrangendo ogni sana logica di marketing, perché appunto lo si poteva scaricare gratuitamente. E già da questa iniziativa il libro è iniziato a diffondersi, è stato scaricato moltissimo, la pagina che ha creato su Facebook del libro ha avuto immediatamente nei primi giorni e poi nelle settimane successive tantissime visualizzazioni, condivisioni. Insomma, si è creato un giro di persone attorno a questo libro che ora continua in una serie di presentazioni che Mario sta facendo in giro per l'Italia e addirittura in un'associazione, poi ve ne parlerà lui. Questo perché lo dico? Perché a me ha colpito molto questo fatto? perché non è consueto, non è normale, insomma non succede spessissimo che attorno a un libro ci sia così tanto interesse, cioè le persone si muovono, cioè cerchino l'autore, organizzino lì presentazioni, perché è tutta una cosa che è nata, Mario ve lo racconterà, quasi indipendentemente da lui, cioè senza che l'autore dirigesse questo movimento, tra virgolette, no? Ecco, questo mi colpisce perché un po' smentisce quello che si è portati a pensare, cioè che questi temi, in particolare il taglio che ne dà Mario Di Nolfi, innanzitutto non interessino e comunque, come dire, siano condivisi da una minoranza silenziosa o indifferente, no? Che non abbiano presa, che ormai diciamo l'Italia, il paese, gli italiani, la gente, anche i cattolici, diciamolo pure, la pensi in tutto altro modo, insomma non... ecco. Quello che invece mi sembra sta succedendo attorno a questo libretto racconta una storia un po' diversa e che è, secondo me, questa, cioè che quando c'è qualcuno che ha il coraggio, mettendoci faccia, di dire certe cose che oggi sono assolutamente, politicamente scorrette, scorrettissime, beh, quando c'è, quando si vede che questo qualcuno che dice queste cose c'è come un risveglio, no? Quindi evidentemente c'è qualche cosa che forse non molti sanno interpretare o che, come dire, aspetta che ci sia qualcuno che dice guarda che non sei l'unico a pensarla così, ci sono anch'io. Ecco, quando c'è qualcuno che lo dice così come improvvisamente, curiosamente, misteriosamente trovi tante persone che dicono ma guarda che anch'io ci avevo pensato magari non avevo il coraggio di dirlo però la penso come te. E questo mi sembra un dato sociologicamente e anche politicamente, devo dire, interessante. Poi con Mario tante volte ci siamo scontrati sulla riflessione se chi la pensa in questo modo sia ormai una minoranza culturale o no. Lui sostiene che è una maggioranza io tendo a pensare che sia una minoranza però maggioranza o minoranza questo, io addirittura dico popolo, questo popolo esiste, mi sembra di capire. Questa è la prima cosa. Poi veniamo al libro dirò anche qui proprio pochissime parole perché c'è l'autore quindi ne parlerà lui. intanto è un libro che si legge si legge molto molto bene perché è scritto molto bene in modo molto discorsivo è quasi sembra quasi la trascrizione di una di una conversazione forse anche perché Mario è abituato a parlare in radio e in televisione per cui quasi più che scritto è un libro parlato e questo secondo me è un pregio perché si fa leggere l'altra cosa che mi pare molto interessante anche qui prima ancora del contenuto è che alla fine di ogni capitoletto che voi troverete ci sono una serie di numeri che sono uno strumento prezioso perché su ogni è costruito come una specie di lunga argomentazione no? All'Inolfi prende alcuni diciamo temi e alcuni meglio alcuni luoghi comuni politicamente corretti su alcune cose l'aborto l'eutanasia e cerca di smontarli non solo con una logica interessante perché razionalmente convincente mi pare ma anche dando una serie di numeri e statistiche che effettivamente fanno pensare perché appunto spesso i numeri ribaltano certe convinzioni che magari ci si passa così e si è convinti che siano davvero così invece poi alla fine i numeri dimostrano che è il contrario no? Penso a insomma sia l'aborto all'eutanasia infantile ma comunque non vi voglio togliere la sorpresa di leggere questo libro e che altro vi posso dire secondo me il pregio di questo libro è proprio la voglia di smontare come vi dicevo dei luoghi comuni e ne abbiamo terribilmente bisogno all'inizio si pensava che a questa presentazione da venire un'altra giornalista Mirta Merlino e la domanda che avrei voluto farle a questo punto la faccio a me senza poi dare una risposta è questa che anche nell'informazione c'è quasi una specie di conformismo dell'anticonformismo cioè su questi temi in particolare che io non voglio nemmeno chiamare temi etici perché sono i temi esistenziali più che altro perché riguardano la vita l'amore la morte cioè riguardano temi con cui noi dobbiamo che fare nella nostra vita su questi temi c'è come un pensiero unico un pensiero conformista appunto che sembra inattaccabile e che ha spazio nei media unicamente questo cioè è come se sui media non si riuscisse a trovare spazio e notiziabilità per una posizione diversa questo è curioso ed è come dire anche inquietante da un certo punto di vista perché in una società come la nostra in cui si fa diciamo si parla tanto di posizioni anticonformiste tutti pensano di cioè come posso dire su questi temi che ormai si siano raggiunte posizioni diciamo più coraggiore rispetto a 20 30 anni fa in realtà mi sembra che sempre di più si prenda piede invece un pensiero decisamente unico su questi temi ma non voglio andare oltre perché mi interessa il dibattito e poi le domande che nasceranno dagli spunti dei nostri dei nostri relatori quindi io inizio subito da Maria Di Nolti a cui chiedo diciamo il succo del libro nel senso come giustamente anticipava Antonio Palmieri la tesi del libro è semplice e però interessante e cioè è di sinistra difendere i deboli questa è la tesi del libro Mare Di Nolfi uomo che si concepisce che dice di essere di sinistra dice come mai la sinistra cioè la mia parte su questi temi non difende i deboli e i deboli in questo caso sono il bambino che è nel ventre della madre l'anziano che non ha più capacità di autonomia il malato che ha bisogno di cura questi sono i deboli eppure la sinistra che diciamo ha nel suo DNA la difesa del debole tra il bambino nel ventre della madre e la madre la donna preferisce cioè pone come come diritto superiore quello della donna non quello del bambino perché questa è la grande domanda che rigira Mario cioè perché la sinistra ha perso su questi temi la capacità di difendere i deboli perché non riesce a riconoscere più chi è in una situazione come quella per esempio che ho appena citato il debole io ringrazio Elisa davvero e ringrazio il senatore Stefano Pedica ringrazio Eugenia Roccella che è insomma rocciosa su queste battaglie e devo ringraziare Antonio che mi ha raccontato come una bestia feroce insomma cosa che giuro non sono se puoi sapere mi racconta così pure mia moglie dice non sono romantico per niente ho usato queste argomentazioni per cui qualche volta qualche mio modo di essere burbero può essere scambiato per me in realtà sono davvero grato e non ho avuto mai dubbi non ti ho mai voluto mettere alla prova caro Antonio sapevo che l'avresti fatto volevo che lo facessi tu perché sono sfaticato sostanzialmente ecco tutto qui il il dato complicato è perché imbarcarsi a scrivere un libro così il dato complicato da raccontare perché ci sono mille motivazioni che risiedono anche nel nel vissuto profondo nelle nelle esperienze nella dimensione più prettamente personale che che oggi non non voglio affrontare e oggi voglio affrontare qui il dato politico di questo libro che è un libro che ha risvegliato a sinistra voglio continuare a usare questa parola con grande diciamo così con grande convinzione una necessità di confronto che pareva sopita mi sono accorto scrivendo voglio la mamma che è arrivato ovunque insomma da da palazzo chigi dove risiede un mio amico e lavora mi avviso neanche troppo male al governo del paese a molti esponenti del partito che ho contribuito a fondare ricordo nel 2007 ho fatto candidato alla segreteria nelle primarie fondative di questo partito democratico eravamo 5 sono riuscito anche a non arrivare ultimo e non era facilissimo insomma per cui ho fatto il membro della direzione nazionale ho scritto materialmente erano nel comitato dei cento che hanno scritto materialmente lo statuto del partito democratico e poi ho avuto anche l'onore di essere un parlamentare del gruppo del partito democratico ho avuto e ho un forte elemento di dubbio oggi rispetto a quello che la sinistra cioè che il centosinistra che governa questo paese il partito democratico debba essere insomma il tema dell'identità di questa sinistra volevo porre all'attenzione di chi ha cominciato credo incuriosito dalla copertina a leggere voglio la mamma da quel sottotitolo in cui dico da sinistra contro i falsi miti di progresso perché ho avuto un'impressione proprio frequentandola con tanto amore da sinistra e con tanta passione perché per fare tutto quello che vi ho raccontato ci passi dentro la mattina la sera le notti i pensieri è la vita di fatto diventa la tua vita ogni minuto e diventa anche la tua famiglia per tanti versi perché nel periodo in cui ho fatto il parlamentare vedevo più i colleghi che i parenti insomma quindi perché mi piaceva farlo peraltro mi piaceva venire in commissione anzi qui è una commissione che ho frequentato molto sono lieto di vederla oggi piena di solito eravamo in otto insomma per cui questa è una bella cosa avere tutti i banchi quasi occupati è una è una bella sensazione insomma quando ci metti tutto questo vorresti anche capire a chi è che dai tanto amore a chi è che dai tanta passione a chi è che dai tanta forza l'identità di questa sinistra diciamo così è stato molto difficile disegnarla quello che io immaginavo fosse il partito democratico del 2007 cioè un nuovo inizio in realtà per molti versi non lo è stato c'è stato un momento di cesura che poteva essere molto forte che io ho individuato nelle primarie 2012 quelle di dicembre in cui Renzi e Bersani hanno fatto una battaglia molto forte io sostegno i Renzi con molta convinzione e la perdemmo quella battaglia io a quel punto francamente non mi senti di sostenere l'opzione bersaniana oltre quel passaggio anche perché sui temi essenziali questa è l'espressione che uso non sono temi etici temi essenziali a sinistra c'era un problema che non era neanche un problema di una linea diversa dalla mia il problema che a un certo punto è partito con una sorta di diktat ideologico per cui non bisognava parlarne non è che ti opponevano una linea diversa sì alcuni diciamo una frangia ma molto marginale non mi ha mai preoccupato la posizione di Paola Concia per capirci insomma che era una mia vicina di banco quando c'era il parlamentare con cui andavo tranquillamente e perfettamente d'accordo mi preoccupava il fatto che di questi temi non si potesse proprio discutere che se cominciavi a chiedere guarda che in Olanda stanno discutendo sull'eutanasia pediatrica ma vogliamo fare un momento di riflessione per spiegare che insomma chi è di sinistra sta col più debole quindi quel tipo di opzione una sinistra europea a cui peraltro qualcuno voleva fare riferimento ha finito per fare riferimento a queste europee perché chi vota PD vota PSE come è noto insomma dobbiamo marcarla a una distanza perché io e tanti altri resistemmo all'ingresso nel PSE proprio perché non volevamo ritrovarci dentro quel tipo di orizzonte rispetto ai temi essenziali lo stesso ragionamento facevamo provavamo a fare su temi come spinosissimi sono temi angoscianti sono temi estremamente complessi come quello dell'aborto come quello della delle teorie del genere come quello del matrimonio omosessuale guardate bene la linea del PD non è mai stata a favore del matrimonio omosessuale anzi anzi il tentativo è la rimozione di quei temi diciamo che non sono temi importanti parliamo solo di economia più o meno insomma quando dobbiamo comunicare ai cittadini usiamo i temi dell'economia i temi della vita dell'etica ripeto i temi essenziali lasciamo stare perché su quelli ci dividiamo poi dicevano nelle segrete su quelli ci dividiamo quindi se voi non dobbiamo apparire divisi facciamo che non se ne parla per niente ci sono stati colloqui anche con Matteo Renzi durante la fase delle primarie diciamo la prima fase delle primarie anche prima del suo arrivo al potere insomma qui Matteo Renzi poi ha appunto delle posizioni secondo me un po' bislacche nelle prime primarie citò la step child adoption cioè la possibilità per gli omosessuali di adottare il figlio di uno dei partner così come però si vedeva e non è convinto insomma alla Camera quando ha dovuto fare la descrizione del suo programma per il governo ha dovuto fare un accenno molto vago proprio perché lo doveva fare sui temi ad esempio dei diritti civili rispetto alle coppie omosessuali ma proprio così insomma ancora lì perché non c'era una riflessione perché su questi temi in particolare a sinistra non si scrive più non si discute più non se ne parla più io quattro giorni fa ho fatto uscire un articolo su Europa che è il quotidiano del Partito Democratico qualcuno lo leggerà spero in cui ho detto la politica ha abdicato i partiti hanno abdicato e sapete cosa è successo? Che hanno cominciato a decidere i giudici hanno cominciato a decidere i giudici non si discute più nei luoghi dove si dovrebbe fare questa discussione cioè all'interno dei partiti nelle associazioni pre-politiche all'interno del Parlamento allora decide la Corte Costituzionale che le deroga è incostituzionale non è che il tema torna al Parlamento diciamo andiamo in Parlamento e ridiscutiamola questa questione no la discussione su questi temi la faremo oggi qui in sala del Mappamondo non nella Commissione che solitamente qua si riunisce ed è paradossale qui non ci dovremmo essere noi ci dovrebbe essere la Commissione riunita non fa altro che discutere di questo probabilmente che è uno dei temi fondamentali rispetto all'utero in affitto che insomma io nel libro lo descrivo con i toni che credo sia utile bisognerebbe descriverlo un uomo di sinistra come può accettare che venga comprato l'ovulo di una donna indiana cioè sfruttando la condizione di assoluta povertà e disagio di una donna povera venga comprato quell'ovulo poi venga comprato l'utero di un'altra donna indiana sempre povera e poi venga comprato il loro figlio e venga portato da una donna 54enne milanese a Milano e poi un giudice dica no vabbè non c'è alterazione di stato è figlio suo e con quella sentenza sostanzialmente sdogani l'acquisto e l'uto di un affitto in Italia se non ne parla chi sta al governo caro Matteo Renzi se non ne vuoi parlare tu perché è un problema spinoso e imbarazzante la supplenza la faranno i magistrati la fanno i magistrati è qualcosa che sta avvenendo adesso paradossalmente quando è uscito voglio la mamma un mese fa ha cominciato a scatenarsi una serie di sentenze impressionanti sull'utile in affitto ne sono uscite due è arrivata la sentenza di Grosseto alta sentenza come fa un uomo di sinistra a accettare che sia il tribunale di Grosseto a dichiarare che il matrimonio omosessuale in Italia è trascrivibile negli elenchi del registro comunale come fa a ritenerlo accettabile questo passaggio evidentemente contralegge dal mio punto di vista evidentemente contralegge come si può accettare che la supplenza venga espressa in maniera così precisa da un da un tribunale se mi si presenta perché poi purtroppo il problema a sinistra è anche che non si studiano più questi argomenti se mi si presenta un indiano sapete che un ordinamento appunto l'ordinamento dello Stato dell'India che riguarda una miliardata di persone è una cosa minima insomma ha per i cittadini musulmani regolato per legge la poligamia se mi arriva un musulmano indiano che si è sposato sette mogli e vuole registrarsi al comune di Grosseto quel tribunale come glielo nega come glielo nega quel diritto allora questi sono temi così enormi che la sinistra che il mio caro amico Matteo non può tralasciare perché c'è una campagna elettorale e bisogna solo pensare agli 80 euro perché non riempi nulla con gli 80 euro sì forse lo stomaco come dice la mia sprovveduta amica Pina Vicerno le buste e la spesa per due settimane beata lei io mangio molto quindi non sono evidentemente un testimone autorevole però insomma non basta non basta caro partito democratico non basta gli 80 euro non sono l'orizzonte su cui puoi costruire la tua identità non puoi ignorare le questioni essenziali è quelle che costruirai la tua identità questo libro è pieno di citazioni ma di pensatori di sinistra non di Maria Di Nolfi sono pagine e pagine di Pierpaolo Pasolini un altro che era agevolmente rimosso fino all'espulsione nella sinistra italiana negli anni 70 pagine e pagine di Norberto Bobbio che su destra e sinistra pensatore di enorme livello ha scritto insomma diciamo descritto anche ciò che differenzia l'essere di destra dall'essere di sinistra essere di sinistra è stare sempre con grandissima attenzione vicini al principio di uguaglianza e come fai a comprarti una donna indiana povera lanciandogli una mancia di un po' di rupie se sei un uomo di sinistra come puoi trovare accettabile che questo accada troverete le parole di Fabrizio De Andrè troverete insomma un orizzonte culturale che è tutto alieno rispetto al tentativo di trasformare il PD in una sorta di partito radicale di massa quando il partito radicale vero e proprio abbiamo visto che il destino elettorale ha anche avuto e lo dico agli amici del partito democratico attenzione attenzione anche dal punto di vista meramente politico François Hollande ha fatto il mariage portus dieci mesi fa dopo sei mesi era il 18% di consenso se questo era l'orizzonte ideale che tutti i francesi attendevano come mai il suo consenso si è completamente sfarinato mai un presidente ha avuto un consenso così basso e soprattutto deve cominciare a pensare a non ricandidarsi alla presidenza francese in Spagna un altro campione di questa sinistra ci vorrebbero descrivere come identitaria rispetto a questi temi questa è l'identità della sinistra secondo alcuni che si chiama Zapatero il partito socialista spagnolo non ha potuto neanche presentarlo alle elezioni si vergognava di presentarlo agli spagnoli non ha potuto neanche presentarlo in un collegio alla camera dei deputati spagnoli non ha potuto farlo pur vedere in giro aveva fatto il matrimonio omosessuale aveva fatto le aperture tanto liberali della legge dell'aborto la sinistra su questo perde non solo la propria identità se non discute perde il legame con il sentire profondo del popolo dei cittadini perché questi sono temi scritti nel nostro cuore nella nostra anima non si cancellano non si cancella con una seduta all'arcighei la questione che un figlio è figlio di un papà e di una mamma non si cancella con un modulo a Milano con la descrizione genitore 1 e genitore 2 la presenza di una mamma e di un papà perché arriverà una mamma che io racconto in questo libro si chiama Barbara tiene una bella riga dritta su quel genitore 1 e ci riscrive sotto mamma perché quella cosa è ineliminabile vi vogliamo rimuovere questi temi della discussione di questo palazzo perché poi è una responsabilità che io ovviamente per la vehemenza dell'innamorato assegno al partito democratico sicuramente ho qui presenze di centrodestra che insomma sono presenze infatti io ho genia perché come ha detto Antonio su questo è meno evidente però la pensa come noi però è anche lì un tema tabutico anzi per alcuni penso a Galanna penso a Bondi è sinonimo dell'essere moderni avere quel tipo di posizione là è totalmente sbagliato è totalmente sbagliato dire e qui finisco che noi saremmo come che questa è l'accusa perché ovviamente non pensate questo libro facile poi da gestire su internet come sai dopo averlo presentato e regalato su internet perché non avevo interesse a vendere questo libro ho interesse alla discussione i commenti sono pazzeschi cioè da da brividi veri ogni giorno devo svegliarmi una mattina alle sei e mezza e cominciare a bermi quanti sono Lorenzo 600 700 100 mille commenti di insulti tutti i santi giorni che il signore ha mandato in terra dopo l'uscita che voglio la mamma tutti i santi giorni ed è sempre così perché perché vuoi affermare un principio che è secondo alcuni medievale tra le accuse più ricorrenti sei come il Ku Klux Klan sei quello che vuole essere un segregazionista americano non capisci di essere completamente fuori tempo sei quello che voleva far scendere Rosa Parks dall'autobus e io l'ho già detta questa cosa nella prima presentazione che abbiamo fatto con padre Maurizio Botta alla Chiesa Nuova un mese fa proprio guardate che è proprio sbagliata la prospettiva perché Rosa Parks siamo noi Rosa Parks è quello che sta difendendo il diritto del più debole che sta difendendo l'anziano nel suo momento di massima difficoltà il bambino nel suo momento di massima difficoltà che sta difendendo la donna indiana povera che sta difendendo il diritto a esistere anche di un bambino albino perché un mio amico professore albino mi dice che non ne nascono più di albini in Italia non ne nascono più allora noi stiamo difendendo Rosa Parks noi siamo Rosa Parks perché poi paghiamo il prezzo di una discriminazione feroce questo in particolare a sinistra una discriminazione feroce lo sa il professore Alberto Gambino che è qua e spero dopo vorrà pure dirci qualche parola fare queste battaglie a sinistra significa essere additati e tanti amici che la pensano come noi e io so sono convinto ad esempio che Matteo Renzi la pensa esattamente come noi su questi temi non dicono una parola per non essere additati noi ci prendiamo lo sfizio proprio perché diamo un po' burbe lì caro Antonio e cara moglie mia perdonami anche che sto sempre in giro non te fa l'amante per favore e che abbiamo lo sfizio di prenderci questo compito e di buttarci dentro tutto il nostro coraggio grazie ecco Eugenia Roccella lei è stata protagonista negli anni scorsi soprattutto di battaglie ferocissime che ci sono state in questo palazzo cui ho assistito anch'io sui temi etici bioetici dalla legge 40 l'eutanasia al testamento biologico decreti vari e però appunto mentre negli anni scorsi il Parlamento si è molto diviso e si è molto discorso di questi temi ultimamente diciamo nell'ultimo anno gli ultimi due anni in Parlamento quasi non se ne parla più cioè questi temi sono quasi spariti dall'agenda sia dei partiti che proprio del Parlamento e però contemporaneamente come se questi argomenti e queste posizioni fossero grandiosamente avanzati nel Paese penso a a quello che sta succedendo soprattutto nelle scuole mi riferisco ad esempio ai libretti del Lunar non so se qualcuno ha preso immagino che molti vi sappiano di cosa stiamo parlando comunque sono libretti che contengono delle linee educative per esempio sull'educazione sessuale eccetera e che proprio esplicitamente propagandano la teoria di genere cioè il fatto che non ci sia una differenza sessuale tra maschio e femmina ma che l'identità sessuale sia pressoché una scelta ecco questi libretti senza alcuna discussione parlamentare addirittura senza pare un'indicazione precisa del ministero sono arrivati nelle scuole sono arrivati negli asili sappiamo che per esempio al giulio cesare è stata fatta leggere è stata proposta una lettura della mazzuco insomma avete letto sui giornali cioè quello che colpisce è che se da una parte c'è come una tregua della politica e della battaglia parlamentare dall'altra invece nel paese tutti questi temi questi argomenti queste battaglie sono andati avanti quasi senza alcuna resistenza sono diventati già fatti altro esempio i moduli di iscrizione di tante scuole dove già è stata sostituita la parola padre madre con genitori uno e genitori uno senza che appunto la politica ci fosse una discussione politica ecco a origine e se la chiedo perché perché che cosa che cosa ne pensa e poi ovviamente che cosa ne pensa di questo libro grazie in realtà comincio dall'ultima domanda cosa ne penso di questo libro perché io devo ringraziare molto profondamente proprio dal profondo del cuore Mario Di Nolfi per quello che ha scritto che è un manifesto secondo me del buonsenso antropologico ma nonostante sia semplicemente buonsenso buonsenso che parte dall'esperienza condivisa di tutti noi da un'esperienza comune di chi è figlio di un uomo e di una donna siamo tutti figli di un uomo e di una donna da un'esperienza infantile che chiede per esempio di avere un padre e una madre una figura maschile una figura femminile con cui confrontarsi su cui modellare anche le proprie figure di riferimento per crescere quindi da un'esperienza condivisa però è ormai un atto di estremo coraggio Mario ha ricordato gli attacchi che ha subito lui ma devo dire che anche non ci illudiamo che anche essendo di centrodestra si subiscano meno attacchi io ricordo ai tempi per esempio della battaglia sulla sentenza Inglaro diciamo che se fossi stata la Presidente della Camera avrei chiuso un sacco di siti ecco avrei chiesto che si intervenisse sulla chiusura di molti siti perché avevo dei siti proprio mirati su di me che erano di una ferocia di una volgarità inimmaginabile quindi ognuno di noi ovviamente paga prezzi quando affronta questo tipo di temi è straordinario questo fatto perché è un tipo di temi che sollecita immediatamente scatena immediatamente una reazione furibonda quindi questo è un libro straordinariamente coraggioso è del tutto insolito che a sinistra effettivamente si faccia una riflessione su queste cose l'hanno fatta in maniera un po' più forse un po' più elitaria diciamo già alcune persone a cui anche devo un ringraziamento pubblico i cosiddetti marxisti razzingeriani Vacca Tronti che peraltro è senatore e Paolo Sorbi abbiamo avuto un incontro anche e loro hanno approfondito proprio le motivazioni per cui a sinistra tradizionalmente storicamente nella cultura di sinistra non ci sarebbe non c'è una traccia culturale che porta a questi esiti eppure oggi anzi casomai c'è il contrario a di non fia ragione eppure questi sono gli esiti e di fatto c'è come dire una delega non solo una delega ai giudici che se la sono presa in realtà non c'è mai stata una delega della politica ai giudici c'è stata una delega liberamente spontaneamente assunta dai giudici ma non soltanto in Italia in tutto il mondo è così anche in Olanda anche in Belgio l'eutanasia per esempio è entrata prima di tutto attraverso sentenze attraverso sentenze che legittimavano pratiche mediche e poi quindi a ruota diciamo costruivano poi una situazione di fatto che poi i parlamentari di cui i parlamentari hanno sostanzialmente preso atto ma non c'è solo una delega ai giudici c'è come dire una delega a un'egemonia culturale che intimidisce chiunque di cui la sinistra alla fine si è fatta portavoce ma che non è nella tradizione della sinistra è come dire una delega a Rodotà possiamo dire una delega al partito di repubblica una delega in bianco ha una cultura dei diritti ha una cultura radicaleggiante quando poi si vede che politicamente la cultura radicale non ha questi frutti così ricchi insomma anzi è in via di esaurimento da tanti tanti anni è in via di esaurimento però appunto c'è questa sorta di delega a una minoranza io sono d'accordo tu dici che non sei d'accordo con Mario di Nolfi sul fatto che sia la maggioranza a pensarla come noi diciamo e che invece ci sia solo una minoranza nel paese portatrice di questa cultura io invece sono d'accordo io credo che ci sia una maggioranza un tempo si sarebbe chiamata una maggioranza silenziosa mi è capitato spessissimo e ricordo quando ho fatto il family day continuamente venivo accostata da persone che mi dicevano un po' sottovoce io sono di sinistra io ho sempre votato PC allora si diceva PC poi PD eccetera però su queste cose la famiglia per carità eccetera quindi viene un po' subita e poi diventata una bandiera una bandiera della sinistra è stato ricordato Zapatero è stato ricordato Land una bandiera identitaria in mancanza di una riflessione perché secondo me le culture politiche oggi sono tutte un po' in confusione basta vedere gli esiti poi delle questo secondo me è uno dei motivi per cui c'è per esempio l'esplosione del grillismo sono in confusione rispetto al nuovo panorama sociale economico che abbiamo di fronte e antropologico e a cui si sanno si risponde con strumenti di cultura politica impiati io vorrei ricordare fra l'altro che Adinolfi quando si è presentato e lui giustamente è un fondatore del PD e quando si è presentato era portatore proprio di una bandiera di innovazione di innovazione tecnologica comunicativa generazionale di innovazione e io penso che sia proprio questo il punto cioè confrontarsi con un panorama nuovo che invece affrontiamo con strumenti vecchi lasciando poi spazio da una parte sicuramente alla magistratura ma dall'altra anche a fenomeni appunto come quello dei grillini che è un fenomeno che semplicemente denota appunto l'incapacità l'inadeguatezza della politica a rispondere a una mutazione profonda che è una mutazione antropologica sociale economica che ci trova sostanzialmente impreparati un tempo io dicevo che invece la Chiesa era più avanzata su questo fronte perché l'idea della della rivoluzione antropologica la definizione oltre a essere devo dire essere stata anticipata da Pasolini che è verissimo secondo me non è casuale poi il fatto che poi Pasolini fosse da una parte gay e dall'altra anche contro l'aborto mi andrebbe un po' ripensata tutta quella storia comunque la rivoluzione antropologica è un termine introdotto da una riflessione tutta interna alla Chiesa quindi la Chiesa in realtà è stata più avanti di noi di noi politici intendo oggi oggi c'è questa cultura dei diritti individuali che oscura le ricadute sociali di questi diritti e quello che producono questi diritti intorno a sé il deserto che producono intorno a sé si può chiamare diritto diritto al figlio per esempio il figlio a questo punto che cos'è è un oggetto che cos'è si può chiamare il diritto appunto quello di il diritto all'eterologa perché così è passato e quindi il diritto ad avere un figlio con le nuove tecnologie in qualunque situazione in qualunque condizione anche andando in un paese terzo e utilizzando il fatto che lì i diritti delle donne non solo quindi utilizzando una mancanza di diritti utilizzando il fatto che lì le donne sono in una situazione di assoluta subalternità e di assoluta anche povertà e quindi speculando sostanzialmente su una situazione di bisogno di fragilità di inconsapevolezza dei propri diritti e così via si può chiamare diritto quello di sopprimere di selezionare gli embrioni diciamo così o di attraverso la diagnosi prenatale selezionare un feto non soltanto un embrione in base a un criterio che è un criterio eugenetico non è che è un criterio eugenetico soltanto se è lo Stato a mettere in opera l'eugenetica è un criterio eugenetico anche se è il genitore a metterlo in atto perché dire tu sì tu no tu hai un diritto a nascere tu hai un diritto affievolito a nascere è chiaramente proprio è il principio cardine dell'eugenetica così come è stata teorizzata a suo tempo insomma non è altro quindi tutto questo cioè questi sono diritti o sono diritti come posso dire diritti elitari diritti dei ricchi diritti dei popoli che stanno bene e che si possono permettere nuove forme di sfruttamento perché in questo caso io non vedo non vedo altra definizione possibile io non so se questo è un appannaggio della sinistra io sulla vecchia distinzione di Bobbi ho molti dubbi io credo che però sia qualcosa che deve interpellare tutti cioè noi stiamo ogni volta che parliamo dei nuovi diritti individuali stiamo tenendo conto di tutti i soggetti in gioco dalle donne sfruttate all'embrione al bambino se ha lui diritto per esempio di conoscere la sua origine di avere un padre e una madre di avere la certezza delle proprie origini insomma stiamo parlando di tutti quanti i soggetti in gioco o stiamo parlando solo di alcuni diritti di alcune persone cioè di persone privilegiate che possono consentire di definire diritti i loro desideri appunto non so se questa è una questione che riguarda solo la sinistra secondo me riguarda tutti e vorrei fare un'ultima un'ultima conclusione come dire un ultimo interrogativo che lancio per quanto riguarda la sinistra il PD è nato su un'ipotesi di agglomerato diciamo di mettere insieme ma mettere insieme seriamente una cultura popolare una cultura cattolica popolare e la cultura più tradizionale di Essina diciamo dove è finita la cultura cattolica all'interno del PD? io non credo che questi siano temi cattolici però siccome come ho detto la Chiesa effettivamente all'interno proprio neanche del mondo cattolico proprio della Chiesa si è sviluppata una riflessione particolare sulla questione antropologica e quindi i cattolici ne sono stati investiti io mi chiedo perché la cultura del popolarismo dei cattolici di sinistra non ha ritenuto assolutamente di farsi carico di aprire il dibattito all'interno della sinistra su questo io devo ringraziare per questo da una parte dei non cattolici perché i marxisti ratzingeriani sono ratzingeriani ma non sono cattolici e dall'altra parte finalmente Maria Di Nolfi quindi io credo che questa riflessione anche forse gli eredi diciamo insomma quelli che hanno contribuito alla nascita del PD dalla parte cattolica e popolare dovrebbero porsela perché quello che hanno fatto fino a ora è stato al massimo moderare qualche qualche tendenza più più estrema diciamo ma mai lanciare un dibattito mai aprire davvero una discussione su un'ipotesi forte su un'ipotesi culturale che non fosse subalterna che fosse protagonista quindi credo che questo è un interrogativo che la sinistra dovrebbe porsi e peraltro anche il centrodestra perché anche lì se c'è stato con più chiarezza in particolare per quanto forse riguarda l'NCD in questo momento ma un tempo anche all'interno del PDL se c'è stato con più chiarezza diciamo una tendenza invece alla conservazione antropologica dall'altro non si è mai aperto un dibattito fino in fondo e c'è anche lì l'equivoco come ha giustamente ricordato Bondi Galan diciamo l'equivoco che su queste tematiche la posizione liberale è quella del Tana Libera Tutti Tana Libera Tutti non è la posizione liberale secondo me ma questo sarebbe un altro discorso e anche lì appunto ringrazio chi ha scritto questo libretto perché può servire ad aprire un dibattito sia a sinistra che a destra in tutta la politica ecco Pedica lei viene da una storia di sinistra ha militato in partiti di sinistra e in un partito di sinistra adesso è un partito democratico e quindi nessuno meglio di lei può rispondere alle domande che sono venute fuori finora e cioè risumendo intanto la domanda di fondo del libro che ricordavo prima perché perché a sinistra c'è così tanta confusione nell'individuare qual è la parte debole perché giustamente come diceva Cella l'argomento l'argomento cose evidenti invece non lo sono per niente e non lo sono per niente soprattutto a sinistra che come dicevamo è la parte che storicamente filosoficamente direi dovrebbe difendere i deboli ecco perché secondo lei io ho ascoltato appunto l'amico Mario e la roccella ovviamente su qualche sfumatura della roccella insomma qualche cosa da dire perché insomma nel corso dell'intervento ma io non vedo tanta una sinistra che si disinteressa appunto di questi temi e lo dico appunto perché essendo cattolico essendo anche avendo vissuto appunto in un centro sinistra da cattolico e avendo anche parlato in questo centro sinistra per far capire quali erano i temi etici da portare avanti ho sempre visto non tanta omertà ma proprio la chiusura totale di questo tema e non ho mai capito perché io ho sempre detto e qui mi ricollego anche alla parola di Adinolfi a tutti quanti meglio essere additati come noi lo siamo oggi o lo saremo anche in futuro che non omertosi meglio essere additati che non ipocriti però appunto facendo un'analisi di quello che anche l'amica Roccella ha elaborato appunto con la sua riflessione non è solo la sinistra che ha abbandonato questi temi o volutamente o elettoralmente o ipocritamente c'è un Parlamento intero che non ha mai sollevato la questione per risolverla noi come diceva Adinolfi quando si parla di questi temi vedere appunto una commissione appunto una sala come questa piena e attenta e non vedere mai un'aula piena e attenta su questi temi la fa pensare lunga questi temi poi non si svolgono mai non si abbattono mai né all'inizio della legislatura né alla fine della legislatura come avete visto sempre o almeno nel corso delle mie due legislature ma anche nel corso di altri dibattiti all'interno del Parlamento non abbiamo mai visto la chiusura con una sintesi con una riga per dire abbiamo deciso questo e da una parte ci sono i cattolici e da una parte ci sono delle persone che difendono un tipo di famiglia che in questo momento appunto non ci sentiamo noi di rappresentarla va rispettato tutti i tipi di famiglia ma c'è chi dice se pagano le tasse devono avere gli stessi diritti però c'è una famiglia e non ci sono le famiglie per quello che mi riguarda pur essendo cosciente e consapevole come diceva Di Norfi di essere additato come quella persona che tiene alla famiglia e non alle famiglie però c'è anche la consapevolezza di non avere un Parlamento capace di parlare e di portare a termine un percorso questo l'abbiamo visto e questo è un dato di fatto che tutte le forze politiche non solo la sinistra la sinistra è aperta la sinistra è aperta alla discussione la sinistra può anche rispettare tanti altri tipi di soluzioni all'interno discute come giustamente sto facendo io come giustamente stiamo facendo tutti di una famiglia da proteggere una famiglia che la parte debole è il bambino dobbiamo però spiegarci quando entriamo in quell'aula di fatto non si parla più di questo argomento lo ripeto è ipocrita è ipocrisia sicuramente è questo perché si sta dibattendo di questo tema per anni si sta dibattendo per esempio il problema della pedofilia ma non si risolve mai il problema si dibatte sempre un altro argomento che voglio dire anche all'amico Adinofi che è quello del conflitto genitoriale dove viene penalizzato la parte debole il bambino ecco anche su questo bisogna riflettere sulla opportunità o meno di difendere la parte debole cioè il bambino di difendere alcuni temi etici che è quello appunto della famiglia e discutere anche del tema delle famiglie ma con un punto di vista obiettivo e naturalmente di parte io ho sempre visto una sinistra non una sinistra laica che pensa che tutto è possibile io ho fatto anche quando appartenevo a un altro partito che si apriva molto a livello nazionale sulle famiglie o sulle coppie di fatto ma di fatto io quando ho fatto una un confronto appunto tra i parlamentari io vedevo che nel mio partito c'erano l'85% di presenza cattolica che la pensavano come me la stessa cosa nel partito democratico appunto se noi facciamo una dinamina su quelli che la pensano come noi e vogliono essere additati io spero che da oggi appunto da questo libro dalla spinta di Adinolfi ce ne siano ancora di più che prendano coraggio di non avere paura di essere additati perché sta difendendo appunto il valore della famiglia e lo ripeto vogliono risolvere anche il problema delle famiglie in un modo corretto in un modo giusto su questo l'identità appunto della sinistra deve essere aperta sicuramente ai problemi edici ma deve avere il coraggio di dire come la pensa Matteo Renzi è la persona che in questo momento come Presidente del Consiglio esprime quella parte cattolica matrice che è il vero valore della famiglia però o lo dice come giustamente l'appello lanciato da Adinolfi lo deve far uscire fuori per risolvere i temi perché io sono sempre per la soluzione e non per la confusione dei temi qui invece si sta lavorando sulla confusione dei temi e non per la soluzione ecco io sono più per essere chiaro per essere avvitato per dire che la famiglia è una e le famiglie se ci sono vanno analizzate vanno discusse vanno protette vanno protette però va trovata una soluzione è ovvio che chi propone questo è uno che crede è una famiglia è uno che crede che la famiglia è fatta da un uomo o una donna è una famiglia che deve proteggere il bambino è una famiglia che deve proteggere l'evoluzione di una di una riflessione appunto che noi stiamo facendo oggi quella di accettare una condizione che sia quella che noi stiamo legittimando oggi cioè sentire anche con il titolo di Mario Di Norfi volere una mamma con un progresso appunto che faccia capire che cosa vuol dire questo 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 titolo è un titolo importante un titolo che farà parlare sicuramente Mario io ho letto velocemente appunto questo questo libro pochi minuti fa ma si legge con attenzione ma si legge molto velocemente perché sono temi che tutti noi condividiamo io lo spero perché ci sono dei punti importanti che sono quelli degli ultimi appunto di questo libro che sono i 20 punti i 20 punti di Mario Di Norfi sono dei 20 punti dove si dovrebbero discutere in aula e nelle commissioni perché sono temi ai quali abbiamo sempre li abbiamo sempre affrontati alla Camera e al Senato ma non sono mai stati come dicevo prima risolti ecco l'ipocrisia e ecco la paura di essere additati quando appunto Mario Di Norfi nei 20 punti dice non esistono le famiglie esiste la famiglia a cellula base del tessuto sociale e bisogna appunto affrontare questo tema etico che è importante da risolvere per capire come il nostro paese deve accettare appunto una regola deve accettare uno status deve accettare comunque un qualche cosa che poi come si diceva giustamente non deve risolverlo la magistratura ma lo deve risolvere la persona che è delegata a portare appunto la voce del popolo all'interno delle istituzioni e cioè il Parlamento allora io insisto molto nel nel dire e nel ringraziare appunto Mario Di Norfi che mi ha prelevato insomma come amico per per lanciare appunto anche da parte mia questo coraggio di dire come la pensiamo noi mi auguro che tutto il Parlamento appunto non solo una parte politica non si dibatta solo sulla libertà appunto del centro-sinistra o sulla confusione del centro-sinistra su questi temi ma si dibatta non in mezzo alla legislatura ma alla fine della legislatura o all'inizio di una soluzione da portare avanti per dire ci siamo e lo ripeto avendo avuto questa esperienza io vedo che la matrice cattolica la matrice che la pensa come noi è una larghissima maggioranza all'interno l'Aula appunto abbiamo detto che decide noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo portare avanti questo libro appunto di Mario Di Norfi deve servire come esempio per farci uscire fuori da questo letargo da questa paura che fino a oggi non ci ha fatto parlare è un bel libro sarà sicuramente ecco vorrei anche lanciare una provocazione visto che prima la Calessi appunto diceva che a Giulio Cesare appunto si leggono dei libri ecco invitare anche nelle scuole a leggere il libro di Mario Di Norfi ed affrontarlo e a dibatterlo perché dovrebbe essere appunto ecco un discorso di cultura un discorso appunto che deve entrare nelle scuole perché era un dibattito non lo fa il Parlamento facciamolo almeno nelle scuole grazie grazie ecco Palmieri a lei chiedo intanto qual è lo stato dell'arte nel centro-destra in particolare in Forza Italia Roccella sfiorava un tema che mi sembra interessante cioè la cultura liberale e cioè che anche per una cultura liberale perché molti di questi temi in realtà non io credo che non siano temi da cattolici cioè io non non farei tanto un appello ai cattolici di questo di quel partito perché si tratta di temi come dire di posizioni ragionevoli prima se l'ha detto di buon senso sì di buon senso ma non nel senso sempliciotto della parola ma di buon senso perché corrispondono a una posizione ragionevole perché la nostra ragione ci fa dire che tra un bambino e un adulto la parte debole è il bambino questo lo dice la ragione lo dice la fede allora tornando a Palmieri faccio una domanda diciamo un po' politica una provocazione in questo Parlamento ci sono come dire accordi trasversali sulle riforme tra partiti che hanno posizioni diversissime a partire appunto proprio da Forza Italia e il Partito Democratico è possibile come mai non si vede neanche proprio il barlume di di larghe intese invece su temi di questo tipo o anche solo non dico per legiferare ma anche solo per opporsi ad alcune iniziative come quelle che citavo prima che si vedono che sono che sono state fatte che sono in corso come mai c'è questo silenzio poi che cosa che cosa sta succedendo che cosa si muove nel suo partito se qualcosa si muove su questi argomenti grazie intanto rispondo che eppur si muove ma passo la domanda successiva non è vero intanto voglio dire che spero che abbiate notato che facciamo questa cosa nella settimana che porta alla festa della mamma e quindi la sottile arte comunicativa che contraddistingue Mario ma devo dire anche il sottoscritto in realtà tutto in atto perché la sua disponibilità era oggi o mai più quindi però è comunque una coincidenza credo importante da rilevare anche perché potrebbe essere che di qui a non molto potrebbe anche essere che la festa della mamma possa essere anche la festa del papà potrebbe essere a rischio quindi da questo punto di vista la festa genitore 1 è un po' penso che in alcune scuole in alcune scuole già qui poi potremmo parlare del Natale ma diciamo ci porterebbe lontano questo però rispondo alla domanda aggiungo che ovviamente io il libro lui dice che lo regala io l'ho comprato a di là di quello in ebook perché rigorosamente per essere fedele al nostro rapporto che era totalmente via internet prima di oggi quindi non potevo comprarlo fisicamente ma ci ho detto e lo dico anche confortato dalla presenza in questa sala di Nino Di Virgilio che è stato sottosegretario alla sanità e che per lunghi anni in Parlamento si è battuto su questi temi con Forza Italia prima col Popolo e la libertà e anche dalla presenza di Renato Farina che nella sua esperienza parlamentare anche con il Popolo e la libertà ha tenuto alta la bandiera su questo punto di vista io credo che rivendico la libertà per gli amici per ciascun parlamentare di Forza Italia di pensarla come la vuole su questi temi e di fare le interviste le proposte di legge che gli viene più idonee perché questo fa parte dell'essere parlamentare ognuno si pone con la propria storia anche personale con la propria cultura con il proprio modo di vedere le cose però che cosa è che mi conforta? Mi confortano tre fatti il primo che noi stiamo saldamente a di là di quello che viene detto scritto noi stiamo saldamente dentro i valori indicati dal Partito Popolare europeo e lì c'è una chiarezza e una bussola di fondo che è intoccabile da questo punto di vista che configura alcune esperienze e alcune prese di posizione come eccezioni come conferma la secondo dato di realtà i voti parlamentari i voti parlamentari non soltanto in questa legislatura dove ci siamo impegnati su un unico tema finora in Parlamento che è la proposta di legge cosiddetta scalfarotto e su questa proposta di legge noi siamo stati monolitici tutti insieme ripeto con le dovute eccezioni ma le eccezioni come dice la parola stessa non sono la regola terzo punto mentre dall'altra parte la cosa che mi ha colpito io sono in questo Parlamento dal 2001 quindi ho visto tutto il percorso della legge 40 ho visto un po' di e ho partecipato a un po' di battaglie parlamentari su questo tema mi ha stupito la compattezza granitica del partito democratico dove tradizionalmente in tutte queste tematiche dove c'è il voto segreto perché riguarda la vita delle persone si sono sempre viste formarsi aggregazioni in qualche modo trasversali questa volta ripeto sull'unica prova che finora è passata in quest'aula il PD è stato monolitico nel voto segreto non c'è arrivato un voto in più terzo quindi questo lo dico tra parentesi anche perché in fondo parliamo anche un po' della sinistra del PD oggi ci tengo a dirlo ma non per additare un diciamo così semplicemente il campo avverso no no per rilevare un punto statistico se volete statistico parlamentare di assoluta novità rispetto ai 20 anni della cosiddetta seconda repubblica dove anche quando io ero in Parlamento su queste tematiche si producevano comunque non larghe intese si producevano intese diverse si producevano situazioni molto trasversali parentesi nella parentesi questo è il primo Parlamento sempre nella cosiddetta seconda repubblica dove c'è una maggioranza di parlamentare quanto meno la Camera non lo so il Senato che fa essere noi sicuramente minoranza di questo con Eugenia abbiamo già parlato e con altre amiche e amici all'inizio di legislatura ma per la prima volta questo Parlamento ci vede schiacciata minoranza l'ultimo dato quindi sono rivendico la libertà che ciascuno dica la sua proponga quello che vuole però stiamo dentro il PPE i voti parlamentari e i voti in commissione dicono cose ben precise su come si comporta Forza Italia l'ultima questione è che c'è sempre la trappola retorica che c'è sempre stata cioè a dire tu prendi dentro uno schieramento che tendenzialmente è orientato in una direzione prendi quelli che si pongono su una posizione opposta e li rendi dei campioni mediatici è successo succede per noi succede per gli altri quando Paola Binetti era dentro il Partito Democratico e ai tempi del governo Prodi quindi con la maggioranza resicatissima che ricorderete al Senato era come se fosse un soggetto politico quasi a sé veniva utilizzata strumentalmente almeno questo non lo so ci sono qui autorevoli giornalisti sanno loro come funziona il mondo della comunicazione però si cerca sempre l'eccezione per farla passare come regola e quindi io su questo ripeto sono sereno ho organizzato serenamente questo incontro a questa professione mi ha piacere poter puntualizzare che Forza Italia su questi temi c'è aggiungo visto che il tempo corre e dobbiamo poi se vogliamo anche dare la parola a chi è qui in sala tra noi a far di fretta solo un'ultima considerazione di carattere più generale come hanno fatto un po' tutti gli altri i ringraziamenti a Mario li diamo tutti per acclarati e acquisiti e li invito a continuare in questa opera missionaria sicuramente noi li facciamo tutti il punto e mi riallaccio l'ultimo punto il punto mediatico della strumentalizzazione mediatica c'è una minoranza mediaticamente rumorosa e molto potente che a mio avviso sta facendo una guerra culturale per imporre sostanzialmente due cose anche per via legislativa ma soprattutto appunto per via culturale quindi per qui per questo motivo si va nelle scuole per questo motivo si sta nei media per questo motivo si sta in rete cioè dire imporre due cose uno che l'eccezione diventi la regola perché è di tutta evidenza appunto evidenza quindi tendenzialmente non bisognose di dimostrazione come diceva prima Eugenia che un bimbo ha bisogno di un papà di una mamma quando una donna ha in sé una vita dice naturalmente aspetto un bambino non è che dice aspetto un grumo di cellule fino al 14esimo giorno perché qualcuno in Gran Bretagna ha detto che funziona così e pensa che nome dargli se maschio se femmina insomma ci sono evidenze allora il primo punto di questa minoranza mediaticamente rumorosa e potente è quello di far passare l'eccezione come regola e il secondo punto è quella di in questo modo riscrivere la natura dell'essere umano in alcuni passi si tenta per via legislativa in altre situazioni si tenta per via culturale e lo si fa lasciatemi fare Berlusconiano occupando le case matte del potere e quindi da qui l'azione della magistratura l'azione appunto dei media l'azione nel mondo della scuola della cultura in generale il meccanismo diciamo sinistro in tutti i sensi nel senso del termine e nel senso della l'appartenenza purtroppo alla sinistra al metodo della sinistra è sempre lo stesso e viene applicato sistematicamente anche su questi temi allora per questo come diceva Elisa nella sua introduzione è vero che quando poi qualcuno alza la mano e dice ma io la penso diversamente si coagula lì un popolo perché le persone ancora sono antropogicamente orientate sanamente in modo appunto naturale allora questo questi secondo me sono diciamo gli aspetti dei quali noi dobbiamo tenere conto nel momento in cui siamo qui ma anche fuori di qui facciamo un'azione culturale perché in fondo questo tipo di incontro sta in quella in un tentativo se volete piccolo ma io spero robusto vedete anche la differenza somatica tra me e Mario quindi da questo punto di vista un tentativo piccolo ma robusto comunque di fare un'azione che vada in controtendenza rispetto a questa minoranza però mediaticamente rumorosa e molto 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 potente allora è chiaro che io non credo Stefano che la si risolva con una legge lo si risolva no perché questo è una dibattito sì ma diciamo è una cosa è una vicenda che ci accompagnerà io credo sempre da qui in avanti il momento in cui la tecnica ha consentito il progresso scientifico ha consentito e consente di sovvertire quello che è un ordine naturale allora da questo punto di vista è evidente che questo è un tema e chiudo un tema radicale non tanto non soltanto nel senso dell'appartenenza al vecchio partito radicale quanto un tema appunto che sta alla radice dell'essere umano di ogni essere umano alla radice di ogni posizione culturale e poi di conseguenza politica per cui forte di queste certezze spero di aver potuto condividere con voi in un modo chiaro vedrò poi i tweet di voglio la mamma a Roma se riescono a tradurre fedelmente quello che ho detto se no poi vedremo di interagire una volta finito il nostro incontro perché la mia regola è che quando sono a un tavolo non tweeto perché se no poi mi distraggo allora da questo punto di vista in attesa appunto di rileggermi fedelmente nel voglio la mamma a Roma io ringrazio ancora tutti voi tutti noi per essere stati qui e termino nel modo che do migliore facendo gli auguri a tutte le mamme per domenica prossima alle mamme che ci sono alle mamme future alle mamme che sono magari già in paradiso a tutte le mamme perché sono mamme anche lì per sempre e quindi a mia mamma è lì e quindi da questo punto di vista veramente il migliore augurio che possiamo farci è quello di una grande festa della mamma grazie allora prima di dare di nuovo la parola a Mario Di Nolfi che voleva replicare voglio solo aggiungere una cosa a proposito della minoranza mediaticamente potente che diceva Palmieri io penso che questa minoranza sia potente non solo per un fatto culturale e diciamo di aiuti di mediatici possiamo dire così ma anche perché questa minoranza come dire si incastra bene con delle ragioni economiche cioè il target della coppia gay è economicamente vantaggioso perché spende di più perché come posso dire è il target perfetto per chi vuole vendere un prodotto e non mi dilungo oltre però io credo che dietro le ragioni per cui molte di queste posizioni trovano terreno fertile vengono amplificate ci siano anche calcoli prettamente economici Mare De Nolfi solo un minuto per dire una cosa molto operativa e concreta io credo mi ha stimolato su questo Antonio Palmieri che ci sarà o almeno io mi batterò finché ci sia un effetto politico immediato di voglio la mamma di questo libro ed è esattamente rompere il monolite dei voti in Parlamento del PD sul DDL Scalfarotto che io considero la cartina al tornasole di questo problema perché deve essere chiaro che se ci fosse stata la legge Scalfarotto e non il DDL Scalfarotto voglio la mamma forse non usciva proprio come diceva ma sicuramente io finivo denunciato per omofobia pur avendo scritto un libro che è pieno di amore e chi l'ha letto lo sa dove non c'è nessun incitamento all'odio dove l'ultima parola è la parola sorriso dove ragiono in termini propositivi e senza mai ma mai perché non l'ho nel cuore alcuna forma di omofobia ma il solo fatto di averla trattata in questa maniera mi avrebbe additato come mi ha additato perché basta scorersi la timeline di twitter anche adesso anche in questo momento la mia timeline di twitter la gente scrive seguendo la diretta della camera voi avete il cappuccio bianco avete capito cosa cosa significa questa cosa sarà un risultato operativo io credo nel frattempo ricevo ma veramente centinaia di mail da persone del partito democratico che mi dico finalmente credevo di essere una mosca bianca e invece finalmente qualcuno che interpreta questo elemento perché non è un elemento che non c'è nel PD perché noi dobbiamo ricordare che il PD del 33% quello del massimo storico Paola Binetti la candidava la candidava insieme a Paola Binetti potrei fare il nome di Enzo Carra di Lusetti di Bagiodossi e scusate anche del fatto che la Margherita che voleva e ha voluto e ha fatto la legge 40 era il soggetto cofondatore del PD poi si è deciso di fare un'altra cosa e su questo ha ragione Eugenia Roccella qualcuno si è pure distratto nel PD Voglio la Mamma nasce anche con l'obiettivo politico questo non culturale non di elaborazione questo è un obiettivo politico di risvegliare quel pezzo di cultura democratica che su questi temi ha fatto un'elaborazione un percorso di uno ha fatto insieme a me io c'ero lì dentro non può essere tutto sparito evidentemente c'è qualche gioco delle caserme in particolare delle caserme che hanno portato alla lista delle elezioni 2013 che giocava in una certa maniera adesso mi sembra che la maniera sia cambiata tra l'altro io ho ricevuto una bellissima lettera oggi di Carlo Casini che come sapete è un europarlamentare leader del movimento per la vita e in questa lettera di Carlo Casini è veramente molto emozionante per me perché si cita Giorgio Lapira e il suo confronto il confronto che aveva Casini con Lapira costante Lapira come sapete è l'immagine che Matteo Renzi ha nel proprio ufficio è Giorgio Lapira il sindaco santo di Firenze che è riferimento culturale insomma per tutti noi allora leggo una frase di di Giorgio Lapira si è di sinistra solo se si sostiene il soggetto più debole un gran giorno sarà quello in cui la sinistra deciderà di difendere anche la vita che comincia questo determinerà un cambiamento benefico in tutto il mondo questo è un tema cruciale caro Matteo non lo puoi ignorare non puoi andare a far votare una legge che prenderà questo libro e lo dichiarerà omofobo e che potenzialmente porta ex articolo 1 di quella legge il suo autore in carcere per un anno e mezzo perché questo diventa davvero un vulnus inaccettabile possiamo berci tutto possiamo berci il finto PSE possiamo farci tutte le le solite manfrine che servono in campagna elettorale ma su quel terreno non passano e non passano perché mi ci impegno io sono grosso mi ci metto di mezzo insomma grazie grazie allora direi che nei pochi minuti direi in dieci minuti quarto d'ora che rimangono potremmo dare spazio a un po' di domande intanto però io sollecito io un intervento cioè quello del professore Alberto Gambino che visto che è qua chiediamo un suo contributo ecco in particolare a lui visto che è professore di diritto all'università europea oltre che giurista impegnato su queste tematiche chiedo proprio questo cioè lo si diceva prima nella discussione la politica in qualche modo ha delegato o comunque la magistratura i tribunali si sono presi spazio si sono presi terreno su questi temi ormai in Italia si decide tramite sentenze ecco perché intanto se questo è legittimo o non è legittimo cosa sta succedendo grazie di questa sollecitazione in un convegno tre anni fa all'università di Padova lo titolammo il diritto oltre la legge che prendeva le sue radici da un libro di Dworkin il diritto oltre la legge significa che da gli anni 70 non è un fatto recente il luogo la fonte del diritto non è più chi fa la legge e dunque il Parlamento costituzionalmente legittimato a farla ma è colui che la applica perché dentro alcune norme che possono sembrare lacunose o quantomeno sono lacunose per chi le applica perché probabilmente ne le vuole applicare in modo rigido e quindi arrivare ad una soluzione che ritiene non conforme a un certo progresso della società dall'interpretazione si passa alla creazione di nuove norme in sede giurisprudenziale questo significa il diritto oltre la legge cioè il diritto viene costituito in luoghi che non sono più la legge dello Stato è avvenuto con il caso Inglaro vi ricordo che quella è una sentenza di Cassazione del 2009 sono passati cinque anni non ha fatto giurisprudenza perché se fosse stata corretta quella interpretazione e ahimè di vicende tipo Inglaro ce ne sono tante negli ospedali e nelle strutture sanitarie italiane avremmo avuto almeno alcune decine di altri magistrati di merito che avrebbero necessariamente applicato quel principio perché è noto che la Suprema Corte di Cassazione pur non essendo vincolante orienta quelle che sono le decisioni dei giudici di merito non ne abbiamo alcuna io ho sfogliato tutte le riviste possibili di diritto non abbiamo una sentenza di un giudice di merito che si conforma all'orientamento della Cassazione del 2009 che aveva ritenuto in base al principio di autodeterminazione la possibilità di staccare quel sondino nasogastrico che consentiva l'alimentazione e soprattutto l'idratazione a una paziente in una vicenda diciamo di incoscienza allora davanti a una situazione del genere e qui la riflessione va fatta perché invece in quel momento storico sembrava che quella sentenza di Cassazione fosse conforme alla norma dello Stato o meglio alla non norma perché si riteneva che c'era un buco mancava tant'è che poi i parlamentari si sono provati ad impegnare nella redazione di un testo sul testamento biologico cosa che poi non ha mai visto la luce ecco questa è una riflessione importante da fare ma abbiamo riflettuto sul fatto che quella perdonatemi l'espressione eliminazione di un essere umano è stato compiuto su una norma giurisprudenziale che poi non avevo trovato riscontro in nessun'altra aula giudiziaria italiana o così andiamo avanti perché poi abbiamo un'altra secondo me sentenza abberrante che è quella che stabilisce risarcimento del danno per il malato con sindrome di Down il disabile non ai genitori il principio ormai pacifico ma al nascituro stesso che è una contraddizione in termini perché evidentemente la soluzione era non nascere perché nel momento in cui si nasce si ritiene che si è danneggiati e legittimati a chiedere il risarcimento del danno direttamente esercitabile dal soggetto che è nato implica che c'era un non diritto a nascere questo su tutti i libri di dottrina chi studia il diritto civile lo sa è stata criticata fortemente questa sentenza proprio per la contraddizione in base di logica logica umana neanche giuridica eppure quello è un altro precedente che esiste sta lì fermo che risarcisce il nato con sindrome di Down direttamente per questo evento lesivo che appunto evidentemente lesivo non può essere considerato perché non ci sarebbe stato il diritto e il tema Maria Di Nolfi in modo molto elegante quando parlava di giudici ha assimilato ai giudici anche la corte costituzionale che è qualcosa di forse scorretto politicamente che il giudice è il giudice delle leggi quindi non giudica i fatti ma in realtà giudica la illegittimità costituzionale delle leggi beh qui siamo davanti a un altro luogo che non è il Parlamento che effettivamente oggi è in grado di definire in maniera normativa nuove opzioni culturali si dice non lo so che questa decisione sull'eterologa sia finita 8 a 7 voi ricordate la composizione della corte costituzionale com'è no? 5 eletti nominati dal Presidente della Repubblica 5 da voi parlamentari 5 dalle magistrature tra cui anche quella contabile a me vengono i brividi a pensare che forse quel voto possa essere di un magistrato contabile con tutto il rispetto per i magistrati contabili quando c'era stato un referendum su quel tema e c'era stata una legge dello Stato e allora dove è il luogo della legge o il luogo del diritto? Si è spostato completamente dalle aule parlamentari ma si è spostato in modo legittimo da un punto di vista costituzionale non ci sono state dei momenti di sovversione perché è così la nostra carta costituzionale che prevede che si decida in ultima analisi in capo alla Corte qual è la matrice culturale di questi nuovi diritti che si serpeggiano dentro le aule giudiziarie è la Corte Europea e la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo in particolare c'è un articolo l'articolo 8 della CEDU che parla di diritto alla protezione della vita privata e familiare non è una norma della nostra carta costituzionale ma viene applicata anche dai giudici costituzionali perché chi studia il fenomeno sa che alla fine si è trovata una mediazione dicendo che anche la Corte Costituzionale applica le norme chiamiamole esterne e quindi in qualche modo pur applicando quel diritto e non quello italiano lo dovrebbe reinterpretare con la cultura giuridica italiana beh quel diritto alla vita privata e familiare nelle nostre aule giudiziarie è diventato il diritto alla vita privata familiare senza più la congiunzione non è più il diritto alla vita privata e familiare se vi andate a leggere le sentenze della Corte di Cassazione è saltata quella e e cioè la vita familiare è diventata un fatto privato io mi trovo in due comitati direttivi di riviste una si chiama studi giuridici europei un'altra diritto mercato e tecnologia dove peraltro faremo un convegno e ringrazio non avremo palmieri per venire sui temi delle nuove tecnologie normalmente il diritto di famiglia noi lo collocavamo nella rivista studi giuridici europei sono ormai due anni che sta tutto dentro il diritto mercato e tecnologia diritto e tecnologia ma soprattutto mercato è quella oggi la chiave di lettura che ci consente di fare un discorso non cattolico perché io ci tengo molto all'idea che qui di cattolico forse c'è anche molto poco perché la stessa legge 40 non era accettabile da un punto di vista strettamente cattolico ma oggi si comprende anche perché non era accettabile per certi versi il fatto che arrivino delle aberrazioni come il caso dello scambio di embrioni alpertini ho come l'impressione che a un certo punto poi le cose si rimettono un po' a posto perché quando si ha a che fare con la carne viva delle persone anche queste locuzioni della giurisprudenza trovano un argine nella vita quotidiana questo però dovrebbe essere uno stimolo per i parlamentari e condivido che debba essere in prima battuta il partito democratico perché la magistratura la legge la sede parlamentare sono una delle prerogative sui quali si è fondato un partito oggi maggiore e soprattutto sono le prerogative sui quali la nostra carta costituzionale è stata scritta allora così da giurista che studia il fenomeno l'unica sollecitazione che mi sento di fare a margine del libro di Mario Adinolfi è che non rimangano questi temi legati all'essere e al non essere cattolici ma all'essere secondo un principio di precauzione un po' più lungimiranti e quindi pensare al fatto che se si prendono decisioni è in sede giurisprudenziale è in sede parlamentare forse non ne vediamo gli effetti oggi ma ne vediamo tra qualche anno allora da questo punto di vista ben vengano iniziative come queste vi ringrazio ecco allora do la parola a Costanza Miriano scrittrice giornalista la conoscete non ha bisogno infatti sono arrivata in ritardo perché era l'ora della merenda ma volevo solo dare una notizia a proposito dell'occupare le case matte e del fatto che sia di tutta evidenza e non bisognoso di dimostrazione che i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre che io domani avrei dovuto parlare alla LUIS insieme a Monsignor Paglia Presidente del Pontificio Istituto per la Famiglia Consiglio per la Famiglia e invece mi è stata interdetta è stata insomma la mia presenza è sgradita alla LUIS perché ho chiesto le motivazioni per tutelare le minoranze studentesche gli equilibri delle diverse associazioni studentesche e ho chiesto insomma vabbè formalmente mi è stato detto solo questo però informalmente la cosa che ha seccato è stata una mia intervista alla Zanzara a Radio 24 nella quale ho detto che è naturale che appunto i bambini abbiano un padre e una madre noi che ci preoccupiamo della mozzarella biologica del pomodoro che non sia geneticamente modificato anche la famiglia ha una sua naturalezza ecco credo che sia questa perché non c'è assolutamente nei miei libri nessuna mia intervista mai anzi mi ero raccomandata prima dell'intervista che non avrei voluto parlare dell'argomento perché non mi interessa non sono un'esperta trovo anche violento il fatto che ogni volta che si parli di famiglia si metta al primo punto perché i problemi delle famiglie sono molti altri la tutela delle madri lavoratrici gli assegni i problemi della scuola cioè le famiglie vere hanno tanti problemi non è quello delle coppie omosessuali quindi avevo chiesto espressamente che non si parlasse di questo nell'intervista mi ci hanno tirato ho detto solo questa cosa che i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre e quindi ormai sono omocoba però per fortuna la legge non è passata quindi ancora però il mio intervento è stato cancellato voglio dare la notizia grazie Costanza questa notizia è terrificante ecco un'altra sì scusate io non sono un semplice dipendente ed ero interessata all'argomento scusate un po' l'emozione volevo fare una domanda a tutti in primis a Mario Adinolfi e a tutti i conferenzieri e che si ricollega anche all'ultimo intervento prendendo spunto da un fatto concreto poche settimane fa in una no trasmissione televisiva è intervenuto Ivan Scalfarotto che è stato citato un noto esponente del Partito Democratico con attualmente anche incarichi di governo e gli è stata fatta presente la questione di cui parlava la moderatrice prima della discussione dei libretti UNAR all'interno delle scuole e gli è stato interrogato diciamo sul perché Scalfarotto rifiutasse anche la presenza di interlocutori che contrastassero il punto di vista LGTB cioè gay lesbico bisessuale transessuale Scalfarotto ha dato una risposta molto chiara e anche molto dura sulla quale non voglio dare giudisti di valore chiedo a voi cioè ha detto beh è logico che io non posso consentirti il contraddittorio è logico che tu esponente dei valori tradizionali non possa parlare perché è come se tu negassi l'olocausto io non posso dare la parola a chi nega l'olocausto in questo caso a chi nega dei diritti la mia domanda non è retorica vuole proprio sapere cosa rispondete a questo anche perché prima il senatore Pedica ha auspicato la lettura del libro di Maria di Nolfi nelle scuole se questo è il contesto direi che ci sarebbero delle grosse difficoltà ecco volevo chiedere cosa rispondete a questo clima che ci ha riconfermato anche la scrittrice che ha parlato da ultimo grazie direi che di Nolfi e poi credo che dovremmo chiudere io dico solo io avrei risposto i diritti di chi perché il punto è di chi sono i diritti io tanto sottolineo la gravità della notizia che Costanza Almiriano non possa andare a parlare a lui sembra una cosa gravissima è ovviamente figlia delle cose che dicevi di un clima per cui diciamolo chiaramente insomma per esempio in molte trasmissioni televisive Costanza non andrà mai non andrà mai voglio la mamma non verrà mai presentato state tranquilli insomma continuano a farmi le mie 200 conferenze l'anno in giro per l'Italia dobbiamo saperlo questa è una battaglia che va fatta nel partito democratico in particolare va fatta una battaglia che io ho chiamato resistenza questo libretto è rosso questo libretto è rosso esatto tu hai fatto esperienza è un libretto rosso questo è un libretto che vuole chiamare a una resistenza ma nel concetto che a sinistra c'è di resistenza rispetto esattamente a quello che dicevi poiché la finalità è assimilarci per un reato ci viene affibbiato come reato d'opinione sostanzialmente agli antisemiti e ai razzisti io prima ho fatto il caso di Rosa Parks e questa cosa Antonio lo diceva bene sembrava essere anche rispetto al DDL Scalfarotto monolitica nel PD da quando è uscito questo libro monolitico non è più perché almeno meno uno diciamo così poi sappiamo so usciremo da questa infinita campagna elettorale il 25 maggio poi finalmente forse si potrà ricominciare a discutere veramente di questi temi e allora vedremo ad esempio che fine fa il DDL Scalfarotto come viene cambiato perché so che c'è anche un lavoro nelle parole parlamentari io avendo fatto il parlamentare confido molto nel lavoro che si può fare con gli emendamenti in aula in commissione e poi in aula e poi c'è una grande battaglia culturale che ovviamente è di tutti perché questi non sono temi di sinistra questo lo voglio dire chiaramente non sto agitando una bandierina sto dicendo che però nella sinistra è prioritario avviare questo tipo di dibattito subito perché se non parte subito e nel frattempo arrivano tutte quelle sentenze ogni volta mi sento dire meno male che ci ha pensato il giudice no io voglio che ci pensi la democrazia che ci pensino i cittadini che ci pensino i partiti che ne dibattano i partiti e come ha detto bene Alberto Gambino la sua capacità di essere insieme dotto e comunicativo io sono solo comunicativo l'elemento frontale poi è leggere bene nei dettagli perché è in quei dettagli che s'annita il diavolo è in quella e che salta improvvisamente in quella sentenza di cui nessuno parla riguardo al down è in quelle cose di cui nel mainstream quello che chiamiamo il mainstream della comunicazione non ci sarà dibattito alle invasioni barbariche da Fabio Fazio non ci sarà questo dibattito addirittura a Costanza Miliano dove sicuramente non c'è invito in vista da Fazio te lo do come brutta notizia diciamo così però neanche la LUIS allora cominciamo neanche la LUIS perché questo è il meccanismo progressivamente e poi non hai proprio diritto di contraddittorio fine io pongo la mia questione e la famosa discussione intorno alla presenza di Luxuria in un dibattito nelle scuole sarà di sinistra chiedere che accanto alla posizione di Luxuria ci possa essere il confronto con una posizione diversa mi è stato risposto poi io ho fatto un dibattito con Luxuria in radio proprio recentemente mi è stato risposto no alla scuola di Modena Luxuria ci è andata senza contraddittorio perché il contraddittore era il moderatore al posto degli sacresti c'era un moderatore dell'Archigay quello era il contraddittorio secondo loro perché ed è stato teorizzato non c'è contestazione possibile non c'è contraddittorio possibile a quella linea sui diritti altrimenti è come contestare come dare parole ai razzisti se parliamo di razzismo il DDL Scalfalotto fa questo è una norma che potrebbe uscire da questo Parlamento fra due mesi l'emergenza è adesso è un appello che ovviamente riguarda tutti i cittadini prima di tutto tutti i cittadini consapevoli riguarda la sinistra la sinistra di Pierpaolo Pasolini dei Pierpaolo Pasolini che non hanno paura di farsi espellere e di essere come diceva bene il senatore Pedica additati non c'è problema additateci pure abbiamo la pelle grossa grazie ciao a tutti ecco grazie a tutti mi dispiace se non siamo riusciti a dare spazio ad altre domande ma speriamo in un prossimo incontro magari non qui alla Camera in qualche altro ruolo grazie a tutti per Mario che l'anno prossimo fa voglio il papà così almeno voglio la mamma la vendetta ciao grazie a tutti grazie a tutti